Il Museo Archeologico Nazionale Mario Torelli di Venosa, in provincia di Potenza, è allestito all'interno del Castello Aragonese. Inaugurato nel 1991, ospita i reperti delle aree archeologiche di Notarchirico, sito preistorico rinvenuto nei pressi di Venosa, e dell'antica Venusia. Il 17 maggio 2021, in occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento, il museo è stato intitolato all'archeologo venosino Mario Torelli. L'area espositiva si divide in cinque sezioni, riguardanti il periodo preromano, la fase della romanizzazione, il periodo dalla fine dell'età repubblicana all'età augustea, l'età imperiale e il periodo tardo imperiale fino all'ottocento d.C.